Dopo la tavola imbandita a Portico d'Ottavia, ecco una nuova iniziativa di sensibilizzazione. Le strade di Roma al fianco degli ostaggi. Da ieri la capitale è testimone di questa nuova iniziativa promossa dalla comunità ebraica di Roma per chiedere il rilascio degli ostaggi rapiti da Anas il 7 ottobre 2023. 20 installazioni con monitor LED in diversi quartieri della capitale mostrano le immagini degli oltre 220 ostaggi. Ogni giorno dalle prime ore del mattino fino a tarda sera si alterneranno i loro volti e i loro nomi. Le installazioni sono presenti a Viale Parioli, Viale Liegi, Piazza Domminzoni, Via Flaminia, Flaminio e Fleming, Via Vigna Stelluti, Via Cicerone, Piazza Pio Undicesimo, Piazza Villa Carpegna, Via Labicana, Viale Manzoni e poi ancora Piazza Lodi, Via Cesare Balbo, Piazza Indipendenza, Via 20 Settembre, Viale dell'Università, Via Maiella, Piazza Nibaliano, Corso Triestre e Via Luisa di Savoia. Il tutto per ricordare che i 220 ostaggi israeliani sono ancora lì, nelle mani di Hamas, dallo scorso 7 ottobre, giorno in cui i miliziani hanno attaccato Israele.